Ciao a tutti, io sono Massi Corsaro, mi sono affezionato a questi strumenti da circa una decina d'anni, si chiamano handpan, sono dei dischi armonici molto particolari e gradevoli. Il 6 maggio faremo una giornata particolare al Mullino Terra Madre dove ci sarà anche un workshop con questi strumenti e potrete suonarne alcuni perché ne porterò anche per voi, con poi successivamente un set di ascolto dove faremo qualche brano. Adesso vi saluto con un brevissimo pezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.